Cercasi Lucchese disperatamente per una volata finale da protagonista, ciò che purtroppo non ha legittimato la gara con l'Olbia. Meno 11 alla fine, sempre meno punti a disposizione per la Lucchese, affiancata a Livorno all'ultimo posto, con la sola Gianna Erminia a due punti, ma i Lombardi devono recuperare la partita con la Prosesto. E le altre rischiano di essere irraggiungibili, anzi occhio alla forbice degli otto punti che in questo momento sarebbe fatale. Nasce con queste poco edificanti premesse l'ennesimo turno e frasettimanale dei rossoneri, di scena mercoledì ore 15 sul campo dell'Albino Leffe. Una vigilia caratterizzata dalla rescissione del contratto di Tanasy Kosovan. Ufficialmente il centrocampista coraino se n'è andato per motivi familiari, ma il dubbio del suo scarso impiego rimane. È un'altra settimana densa e fitta di impegni che si chiuderà domenica prossima al Porta Elisa con il Ponte d'Era. In effetti la partenza di Kosovan impoverisce ancora di più il pacchetto mediano, già le prese con gli infortuni di Caccetta e Sbrissa e le non perfette condizioni fisiche di Cruciani. Insomma, scelte quasi obbligate per Lopez, che dovrebbe schierare Bigeri in Porta, Pellegrini, Solce e Benassi o Panariello in difesa, Panati, Zennaro, Meucci, Nannelli e Adamoli in mediana, Bianchi e Petrovic in attacco. Il pallone racconta, ancora stupito nonostante siano trascorsi più di tre mesi, che all'andata, anche allora era di mercoledì il 25 novembre, finì con un pazzesco 5-4 a favore dell'Albino Leffe. Il primo tempo si chiuse sul 3-0 per i Lombardi di Zaffaroni, che a metà ripresa si ritrovarono addirittura avanti 5-0. Poker di Manconi, attuale capo cannoniere con 11 reti. Solo nel finale, reazione d'orgoglio, rimonta tardiva della Pantera fino a 4-5, grazie alle reti di Bianchi, Nannelli, Benassi e Meucci. Una gara specchio di quel periodo particolare, ma più in generale, del tribolatissimo e sofferto campionato di questa lucchese.